Assessore Veranesci, siamo in via Veneto, le scuole e i bambini hanno organizzato un pomeriggio per una riflessione sulla violenza contro le donne. È importante che la scuola inizi a lavorare su questo tema? Sì, assolutamente, lo ritengo fondamentale perché l'educazione al rispetto di genere parte proprio dalla scuola, parte dai più piccoli. Sono molto contenta che sia stata organizzata questa iniziativa che comprende tutte le classi primarie e peraltro è un'iniziativa che quest'anno vede il coinvolgimento dei genitori, quindi una riflessione dell'intera famiglia su questo problema. È il secondo anno che si svolge questo evento? L'anno scorso avevano fatto i bambini, comunque avevano presentato sempre dei disegni, dei canti e quest'anno in più c'è questo coinvolgimento proprio attivo dei genitori che adesso accompagnano i bambini e li aiutano a decorare quelli che sono i manifesti che i bambini hanno realizzato in classe. Piazza, rumore delle donde, mentre la notte finisce dimmi che male c'è, se mentre ballo con il video.